Nuova linfa ai vertici del gruppo giovanile di Forza Italia a livello provinciale. Una riconferma per Mattia Omicioli, coordinatore per Fano, e una nuova investitura per il 17enne Domenico Carbone, vice coordinatore provinciale. Un gruppo giovanile, quello di Forza Italia, che ha già fatto sentire la propria voce a Fano, effettuando un giro per la città, evidenziando le criticità che un turista incontrerebbe. Ma che anche in serbo ha altre azioni per affermare la propria identità e collaborare con i vertici del partito locale per dare il proprio contributo e apporto costruttivo in un'ottica giovanile dei problemi di Fano. Abbiamo per esempio già visto le zone più degradate ed è un punto su cui vogliamo focalizzarci molto. Poi chiaramente tramite l'osservazione e l'informazione, che sono due cose basilari nella politica, ma sulla quale trovo giusto porre poi un accento. E vogliamo fare un discorso più in generale su quello che manca in questa città dal punto di vista delle politiche giovanili, dal punto di vista culturale o turistico. Il mio obiettivo sia quello di cercare di trovare più persone, cioè quindi far crescere sia numericamente ma anche qualitativamente il gruppo giovanile per cercare di risolvere, se magari non ci dovessimo riuscire, soprattutto di rendere noti i problemi che ci sono all'interno dei nostri comuni. Un gruppo, quello dei giovani di Forza Italia, che vuole camminare però con le proprie gambe a livello regionale e in parallelo con i vertici del partito, ma che si vuole affrancare con proprie idee e proprie proposte. Noi ci vogliamo proporre come la classe dirigente del futuro, siamo giovani, io ho 22 anni, sono coordinatore regionale, ma i ragazzi sono forse anche più giovani di me, però crediamo che con la forza e con la tenacia sono gli obiettivi che possiamo raggiungere.